Siamo qui con l'associazione Aglaia, rappresentiamo il Cosentino con l'arte, la poesia e tutte le varie forme d'arte. Nona edizione della Messa regionale degli artisti, anche quest'anno abbiamo voluto contribuire con delle opere, abbiamo consegnato al sindaco della città di Soveria Mannelli un poemetto, quello che io ho scritto anni fa, dedicato alla Calabria, che racchiude un po' tutta la nostra storia e le nostre contraddizioni. Una terra difficile è la nostra ma ricca di risorse di bellezza, sia storiche, artistiche che di tradizione, che ci piace ricordare attraverso l'arte come grande messaggera della bellezza. Grazie. Grazie.